descriverei il fantini con una parola direi attivo io lo descrivo figo molto figo e sceglierei sicuramente sport perché appunto come detto prima io mio fratello e il nostro gruppo siamo molto sportivi esclusivo perché è un pozzo dove riesce a fare molto sport ci sono anche qui vedi gente che gioca pallacanestro professionisti e non riesce a prendere il sole berti qualcosa prendere il sole fare un po di tutto rivitalizzante poiché in una giornata riesci a scaricare tutto lo stress della settimana sportiva credo che il pantini club sia il bagno sportivo per eccellenza luminoso luminoso perché mi dà quella sensazione di di trovarmi in un ambiente dove trovo tutto trasparente facile allora se devo pensare a una sintesi è una parola che descriva veramente il pantini club mi viene a dire sport sport non ho dubbi pantini club sport sport sport